Eccoci con Della Rocca Giovanni, capitano della Terracilandia. Raccontaci un po' questa prima partita del giorno, com'è andata l'esperienza? È andata bene, noi siamo una squadra esperta. Questo è già il nostro sesto anno consecutivo, veniamo già da quattro titoli, quindi speriamo di ripeterci. Abbiamo incontrato la squadra di Pordenone, che è una matricola, e beh, chiaramente i valori si sono visti, si sono notati. Quindi chiaramente noi siamo una squadra molto più esperta, noi abbiamo vinto il campionato provinciale, regionale, adesso siamo con la stessa squadra, speriamo una squadra solida, la nostra ormai, speriamo di puntare per titolo. Ma tanto qui già il valore, il divertimento, stare insieme in una location che è certe, è molto bella. C'è qualche squadra all'interno del giorno che vi può preoccupare? Sì, sì, c'è Rimini, che è una squadra del posto, come ho sempre detto, le squadre del posto sono ben organizzate, perché poi domenica arrivano altri ragazzi a loro, quindi ci sono due giocatori di esperienza che giocano a San Marino, in Serie A, quindi sarà una bella partita contro loro nel Girone, che sarebbe l'ultima del Girone. Io ti ringrazio per il tuo tempo, grazie. Grazie.